Grazie a tutti. A questo punto siamo andati a cercare come a questi nuovi scenari possa corrispondere qualche nuova formula collaborativa e abbiamo esaminato in particolare la produzione associata. L'abbiamo esaminata da vari punti di vista cercando di portarli tutti insieme. La collaborazione con altre imprese e la collaborazione con singoli individui. Siamo riusciti a fare una rapida panoramica ma è necessario un approfondimento e vi manderò del materiale. Abbiamo sfiorato nuove figure professionali e attraverso i materiali che vi ho mostrato Avete potuto forse intuire l'importanza di una figura professionale su cui abbiamo insistito anche nell'ultima sezione, quella dell'etica e delle linee editoriali, cioè la figura del fact checker, di colui che accerta i fatti prima della pubblicazione. Un altro punto su cui ho insistito poco perché purtroppo nessuno di noi è in grado di parlarne con sufficiente cognizione di causa E' l'esigenza delle persone che sappiano lavorare in HTBL5. Adesso la connessione mi sta tradendo perché io volevo mostrarvi dei materiali grafici. Mi limiterò a mostrarvi questo titolo che trovate dentro Transmedia, poi da casa vostra ve lo andate a cercare. È una normale, quasi normale, timeline, però è particolarmente complessa ed è particolarmente ben fatta. Su quella discesa che vedete voi potete muovervi come se foste sulle montagne russe, risalire e scendere lungo il filo del tempo. E potete farlo per ciascuno, i quadratini marroni che vedete in basso dove c'è il ditino, sono paesi, per ciascuno dei paesi arabi. Lo dico in particolare pensando a chi di voi lavora con Al Jazeera, ma in generale lo possiamo applicare a tantissime forme. Ecco, è una forma grafica magistrale. Ovviamente suppone dietro un database molto ricco, che infatti al Guardian non manca, di articoli filmati, fotografie e ovviamente tutte le palettine che vedete qui e là corrispondono ad elementi di quel database. Purtroppo non ci riusciamo ad aprirlo, per cui stiamo senza, credo. Vediamo. Siamo in questo momento, siamo su Wind. Sì, perché quell'altro non si muoveva proprio, ma manco questo si muove. Continua a far girare la rotellina. Sì, vado a toglierlo di là. Ok, vediamo. Ecco, è arrivato stavolta. Vedete, l'internauta può chiamare la timeline, vedete che la timeline presenta le date dei vari eventi e poi, quando si è su una determinata data, si possono vedere tutti gli item corrispondenti a quella data contenuti nel database. Certo, costruire un web documentario soltanto su una timeline è un po' riduttivo, però inserire, quando si ha un forte database, una ricca timeline è tanto tanto bello. Questa operazione credo che sia realizzata in flash e non in HTML5, perché vedete che il cursore non è sensibile al testo in nessuna maniera. Io adesso sto col mouse premuto, ma non mi evidenzia il testo. Io penso che il nostro piccolo mondo ha bisogno di ragazzi che sappiano muoversi su HTML5 con grande disinvoltura. Purtroppo in Italia è difficile trovarne. Ok, questa è una delle migliori in assoluto. La Public Health Guardian l'ha pubblicata il 5 gennaio 2012 ed è ancora online. Poi c'è un altro punto che volevo mostrarvi, che è quello delle strane connessioni e delle strane parentele fra documentario e cartone animato. Vi mostro l'esempio più borderline, che è Molle Industria. Lo conoscete già? Vi risparmio l'ascolto. E' un italiano che fa Molle Industria insieme a molti altri. Lo fa dal Regno Unito, dove insegna, non mi ricordo in quale università, molto giovane. Questo vi divertirete a giocarlo, adesso non c'è tempo e poi non ha senso che ci sia uno solo che smanetta. Oligarchi, ovvero, evidentemente, l'oligarchia del petrolio. Adesso tu puoi essere, e di 5 anni fa, il protagonista dell'era del petrolio. Esplora e perfora il mondo. Corrompi politici. Ferma le energie alternative e aumenta la dipendenza dal petrolio. Sii sicuro di divertirti prima che le risorse comincino a finire. E' un giochetto piuttosto ben fatto che ci permette di ripercorrere, a partire dalla fine della seconda guerra mondiale, tutte le normative che prima negli Stati Uniti e poi nel resto del mondo hanno di fatto imposto l'uso del petrolio alle condizioni volute dai petrolieri. Quindi ne consiglio la lettura, la consultazione e poi soprattutto è molto divertente. Sempre sullo stesso stile, tanto per darvi un'idea della linea produttiva di Molle Industria, che fa queste cose per pura sperimentazione. Queste sono gratuite, non sono coprodotte, in termini di denaro dipendono soltanto dalle offerte dei giocatori. A chi gioca ad un certo momento viene chiesto di versare il più recente, questo qui, Phone Story, un gioco educativo sull'aspetto oscuro del tuo favorito smartphone. Segui il viaggio del tuo telefonino intorno al mondo e combatti le forze del mercato in una spirale di obsolescenza pianificata. Android lo ha accettato nel suo store e invece App Store lo ha rifiutato. Il gioco è venuto fuori quando si è venuto a sapere in occidente di questa fabbrica cinese dalla quale le persone non ne potevano più stressate dal lavoro e si buttavano dalle finestre, tanto che hanno messo un ombrello per recuperare le persone in mezza strada. Dunque loro hanno ripercorso nel momento del grande lancio di iPhone, perché il gioco animato è datato 2011, quindi il momento della grande affermazione di iPhone, hanno ripercorso l'iPhone a partire dalle miniere africane nelle quali si scava la materia prima con cui si costituisce la memoria del telefonino, la fabbrica cinese dove accadono quei salti nel vuoto e infine il marketing nel resto del mondo dove l'obsolescenza dello strumento è pianificata. Anche questo consiglio la consultazione, il gioco, magari proviamo, io non sono questo grande giocatore. in tutti i modi lo trovate su phonestory.org qui c'è uno dei neonati che scavano. appena uno è stanco devi subito andare a punirlo. questo per esempio. unisci le uno gli autori. con le mezze stanco. ok devi essere più efficace nel reprimere il poveretto. poi ci spostiamo nella fabbrica cinese e avanti così. Ancora uno da Molle Industria, questo, McDonald's, una parodia digitale del funzionamento della catena di ristorazione, dirigere una multinazionale come il McDonald's è tutt'altro che facile, controlla ogni fase del processo dal pascolo alla macellazione, dalla gestione del fast food a quella del marchio e ricorda che per avere successo e rimanere alla guida della più grande catena di ristorazione al mondo non lo è più, Burger King l'ha superata. Dovrai lasciare da parte tutti i tuoi valori morali. Potete scegliere la lingua in cui lo volete. Quanto costa produrre un prodotto di questi catena? Ma sono un gruppo che lo sa fare e lo fanno, sono certamente molto bravi. Oltretutto ognuno di questi giochi, lo vedrete, contiene una quantità di documentazione notevole. Non potrei dirlo, non credo che si paghino tra di loro. Certo è che quantomeno lui, di cui trovate facilmente il nome, se cercate Molle Industria su Google vi salta fuori il nome del leader del gruppo, ha un bel insegnamento, è un consulente di nome. Ecco qui devi abbattere, comincia abbattendo foresta e... Da molti anni va di vota l'ecologia, una specie di religione che considera ogni attività del capitalismo. Non puoi dare coca le capanne? Prego? Puoi dare coca le capanne? Sì, forse. Aspetta che ci proviamo. Ok, continuerete voi. Ve ne ho fatti vedere soltanto tre, qui Transmedia ne segnala quattro, ma se andate sul sito di Molle Industria ne trovate una buona trentina. Consiglio caldamente. Sinceramente, io lui l'ho invitato una volta a uno dei workshop di Torino, purtroppo non poteva venire. Credo sia una persona da far ritornare in Italia. Comunque, per chi si interessa di espatriati appartiene alla categoria. Mi spiace di non ricordarmi nel nome. Bene, mi sembra che i temi che avevamo in programma per oggi li abbiamo toccati tutti. Se vogliamo fare un piccolo giro dei pensieri in libertà, penso che sarebbe utile. Più che domande, anche affermazioni. Abbiamo incominciato la giornata raccontandoci che cosa volevamo fare. Vediamo se quello che è accaduto oggi in qualche maniera ha aggiunto dei pezzettini, perché magari da qui in poi si può andare un po' più rapidamente. Giro all'incontrario. Da queste due settimane, ciò su cui ho focalizzato più la mia attenzione è stato il fatto di dover cambiare approccio a un certo tipo di cose. Uno, guardando questo mondo a cui, prima di questi seminari, di cui non sapevo neanche l'esistenza. Uno, perché sono un appassionato di documentari come fruttore, però non avevo neanche la più pallida idea che si facesse questo su web con queste dinamiche, con queste professionalità. Due, mi sono reso conto che da solo non potrei fare quasi nulla rispetto a questi prodotti che hanno bisogno di professionalità, che vanno ben al di là delle mie molto piccole. Basta, al momento questo. Poi, diciamo, la cosa interessante di oggi è stato per me anche il discorso del diritto, diciamo, di tutto quello che è la normativa alle spalle. Il discorso che può anche sembrare lontanamente noioso, però credo sia poi i pilastri per poter fare qualcosa di serio. Io penso che ci sia molto da studiare, investigare, da sperimentare anche, perché comunque le possibilità sono davvero infinite. Quindi, magari, alcune cose non sembrano nemmeno, cioè, non ci si pensa. Però poi, quando, tipo per esempio, il fatto che dicevi prima del dare anche a, riguardo agli user generated content, dare agli utenti qualcosa in cambio, che magari non è qualcosa che si diceva immediatamente, ma anche in un futuro prossimo, è molto interessante. Però penso anche che bisogna, cioè, è una struttura complicata da mettere in moto. E bisogna anche stare attenti a non fare, magari, delle promesse che poi non si possono portare a termine, comunque. Grazie per la condivisione di queste idee. Sì, io molti di questi web documentari li conoscevo, appunto, perché già da un po' investigavo la materia. La cosa che è stata molto utile, appunto, è avere professionisti del settore per un po' avere ispirazione e un po' capire anche, soprattutto, come muoversi nel mercato, appunto, quando parlavamo anche dell'associazione in, non mi ricordo come si chiama, in partecipazione, perché, appunto, la difficoltà in questo, probabilmente, è trovare collaboratori che supportino questi progetti che, appunto, partono da situazioni molto piccole e hanno bisogno di crescere. E quindi, niente, questo, appunto, mi è piaciuto molto, perché è quello che volevo, cioè, trovare ispirazioni. E quindi, sono contenta. Io, invece, avrei una domanda riguardante, appunto, le associazioni in partecipazione. Volevo sapere, quanto sono, in realtà, quanto sono diffuse al momento e quali sono le difficoltà, quanto possono essere diffuse in questo momento e quali sono le difficoltà di metterle in piedi, tenuto conto del tessuto socio-culturale italiano, ecco? Non sono particolarmente diffuse, ma neppure così rare e non sono difficili da mettere in piedi. Occorre un'assistenza legale, ma, direi, nella maggior parte dei casi, con un costo che sta al di sotto dei 1000 euro. Quanto alla loro diffusione, nella maggior parte dei casi, intanto, una cosa la puoi chiedere alla tua stessa memoria, quanto spesso hai letto nei titoli di testa di un qualche contenuto per lo più lineare in associazione con? È abbastanza frequente. Quanto a quella espressione corrisponda a un contratto formalizzato o piuttosto a un gentleman's agreement, questo uno se lo può domandare. In generale, se il budget del contenuto è abbastanza elevato, certamente dietro ci sarà un contratto. Però non è uno dei contratti più difficili. Il vero problema è quando tu esci dall'ambiente SIAE, cioè dallo sbigliettamento e dalla diffusione televisiva, che è tracciabile da parte di SIAE, ecco, allora lì entri in un terreno che è totalmente nuovo. Se il contenuto che stiamo elaborando va a muoversi sul web, principalmente o inizialmente nella fase iniziale del suo ciclo di vita, come per esempio accadde ad Alexandre Brasci facendo Priso Valley, ecco, lì il punto è che Brasci mette Priso Valley gratis sul web in cambio di pochi soldi da parte di Artè, che gli dà quei pochi soldi perché il progetto le piace e vuole verificare l'attrattività del progetto per il largo pubblico. Qui la formula ipotetica sarebbe diversa. Il contenuto va sul web, va sul web a pagamento, inizia ad essere pagante fin dal primo giorno, fin dall'alpha version, fin dalla versione 0, inizia ad essere pagante, ci va poca gente, però questa poca gente ci aiuta a definirlo meglio, all'alpha succede beta, alla beta succede una versione importante. Quando siamo tra alfa beta o tra beta e versione 1, chiamatelo come volete, o tra versione 1 e versione 2, quello è il momento di lanciare il crowdfunding, evidentemente, perché se lo lanci troppo prematuramente lo stai lanciando a tua zia, non lo stai lanciando ad un pubblico effettivo. Dunque, in quei casi lì c'è tutto un terreno totalmente nuovo da esplorare, le cui difficoltà mi sono abbastanza difficili da immaginare. Tuttavia, un software che consenta ad una banca di ripartire i proventi di una vendita di diritti di accesso online, secondo quote prestabilite e concordate tra gli aventi diritto, non è certo la cosa più difficile nel campo del software. Ovviamente occorre la collaborazione di una banca e la sua volontà di sperimentare. Questa collaborazione può essere anche incentivata sul piano della ricerca attraverso fondi di ricerca. questo è lo stato dell'arte oggi, perché queste cose non ci sono ancora e debbono essere fatte. E quindi è il vero punto di potenziale sviluppo. E se la quale vuoi presentare la ricerca che si deve fare attraverso la ricerca e i fondi della ricerca? Lo dicevo stamattina, forse non eri in aula. Io sto pensando molto da questo punto di vista a Horizon 2020. è un enorme programma di ricerca multimiliardario della Commissione europea, e non sto esagerando i termini, è multimiliardario, che va ad iniziare virtualmente al primo gennaio 2014. Tutto il 2013 è stato dedicato dall'ambiente... Ne trovate informazione... Intanto basta che googliate Horizon 2020. Comunque ne trovate specifica informazione sul sito della comunità europea dedicato alla ricerca tecnologica e scientifica. copre l'intero universo della ricerca europea. Però, come segnalavo, la nostra tematica di contenuti anche in un certo senso copre l'intero... non dirò l'intero universo, ma larghe parti delle tematiche di ricerca. perché se noi lo chiamiamo web documentario creativo abbiamo definito un genere che sta nel campo della cultura. Se lo chiamiamo giornalismo investigativo abbiamo definito un altro genere che sta nel campo dell'informazione. Se lo definiamo contenuto multimediale a supporto della governance, della pubblica governance, abbiamo definito una funzione comunicativa ausiliaria della funzione pubblica. poi, alla fine, tutti i web documentari sono. Quindi, le tematiche coperte dall'agenda digitale europea, l'utilizzo del web per facilitare le funzioni democratiche, per facilitare lo sviluppo delle piccole e medie imprese, per facilitare l'innovazione nel campo delle telecomunicazioni. Ho parlato di tre tematiche totalmente diverse l'una dall'altra e probabilmente ne ho dimenticate tante altre perché se al termine di, che ne so, una ricerca di ambito medicale i risultati della ricerca possono essere più agevolmente pubblicati attraverso una forma web doc anziché attraverso la tradizionale forma di pubblicazione scritta perché magari ho degli elementi filmati o iconografici che riescono ad essere resi e comunicati più appropriatamente attraverso il web doc. Ecco, in buona sostanza il web doc copre una quantità di linee e di campi di ricerca. Allora, il nostro ambito che sino a questo momento per molti di noi non per me personalmente ma per tanti altri ha visto essenzialmente la propria ricerca di pubblica sussidiarietà o nel campo della cultura o nel campo delle misure per la gioventù può cominciare a vivere in maniera come dire più ambiziosa i propri progetti muovendosi a fianco della ricerca tecnologica all'interno della ricerca tecnologica e ovviamente gli obiettivi da raggiungere in quel campo sono più ambiziosi sono più selettivi ma anche i risultati sono molto più interessanti pensate adesso io non conosco ancora né il nuovo budget perché nel 2014 tutta una serie di programmi dell'Unione Europea cambiano ciclo quindi per esempio il programma media è terminato e inizierà il nuovo programma culturale che facilmente si chiamerà Europa Creativa e che avrà media al proprio interno così come il vecchio programma quadro di ricerca tecnologica è terminato ed inizierà Horizon 2020 il rapporto che c'era tra il budget complessivo di media nell'ultimo ciclo e il budget complessivo del programma quadro di ricerca nell'ultimo ciclo era qualcosa come 1 a 100 quindi evidentemente è uno spettro più ampio di iniziative ma ha anche una dimensione di aiuto ai programmi selezionati molto più cospicua e interessante questo al di fuori dei discorsi di mercato che a mio avviso comunque debbono essere specialmente per i contenuti di tipo creativo giornalistico informativo centrali una nota a margine importantissima da questo punto di vista è che nei programmi di ricerca evidentemente specialmente data la situazione di grave crisi economica in cui tutta l'Europa versa i programmi di ricerca anziché aiutare l'area diciamo più astratta tendono ad aiutare l'area di ricerca più vicina all'industria e al commercio quindi viene premiata la ricerca applicata proposta da imprese che già stanno sul mercato anche se non con posizioni leader e i cui risultati si pensa potrebbero migliorare di molto le share di mercato delle imprese che hanno svolto la ricerca quindi direi la condizione tipica delle micro società italiane di produzione che hanno dovuto subire una condizione di mercato molto sfavorevole e che oggi cominciano a vedere un barlumedi vabbè io innanzitutto vi ringrazio dei contenuti che avete condiviso con noi e del piacere di stare insieme e poi l'argomento cioè a proposito di ciò che mi ha interessato di questo discorso di oggi sono i network tematici su cui avevo in qualche maniera fantasticato nei giorni precedenti dopo aver scoperto il fantastico mondo dell'interattività eccetera insomma della partecipazione e appunto mi chiedevo cioè questo è quello che mi interessa quindi cercherò di approfondire un po' questa cosa qua quindi diciamo la il in qualche maniera la possibilità di sviluppare reti di relazioni e mi chiedevo se questi network possono considerarsi dei media indipendenti cioè dei media a tutti gli effetti o sono qualcos'altro insomma non so da quale punto da quale piano di sfaldatura teorico ti aspetti una risposta ma io sto pensando in termini molto molto pratici e francamente anche abbastanza commerciali sto pensando che un titolo sociale partecipativo i cui diritti di accesso sono garantiti a fronte di un micropagamento è come un ebook è come un libro è come un film in VOD è una cosa che se vale il suo prezzo e se la sai portare al suo cliente deve rapportarti dei soldi e permetterti di farne delle altre poi tutto il resto sta nella tua etica che non è affatto trascurabile e che secondo me sarà uno degli elementi premianti del prossimo scenario però al di là di questo in termini come dire di astratta scienza della comunicazione non so se definirlo un media un contenuto multimedia francamente non me ne frega niente quello che mi interessa è che ci sia che sia di buona qualità e che si venda bene io volevo un paio di cose la prima è ci sono già state ce ne saranno declinazioni ci sono già state sicuramente sì però anche sicuramente poco importanti declinazioni di questo tipo di prodotti da un punto di vista commerciale intendo dire puramente legata ad un marchio puramente legata ad una company questa è la prima domanda insomma oppure se quella è una strada percorribile oppure se non è percorribile perché la seconda domanda la seconda domanda non è una domanda ma è una riflessione cioè quella che io reputo molto molto utile la lezione di oggi diciamo così più in generale insomma ci spinge ad entrare in partecipazione con insomma con vari attori di questo di questo teatro proprio perché io per primo mi sono imbattuto nell'idea di leggere un progetto media approfondirlo di provarci e uno gli ostacoli più grossi che ho incontrato era proprio un progetto su prodotti transmediali era quello di dover dimostrare che di aver già distribuito un prodotto precedentemente con tanto di contratto di distribuzione di avere già delle proprietà intellettuali su dei prodotti di questo tipo e quant'altro logicamente sono delle giuste insomma con i requisiti da richiedere però che spesso insomma bloccano tutta una serie di piccole piccolissime medie imprese che hanno magari anche fatto prodotti di questo tipo ma magari non hanno un contratto di distribuzione oppure magari ad un'azienda che invece mantiene la e quindi questa io collego insomma questa importante lezione che oggi lei ci ha fornito anche da un punto di vista logistico proprio per risolvere questo tipo di problemi perché potrebbe essere un escamotage a non dover andare a diventare vassalda la solita compagnia broadcaster che invece ti permette di ottenere quei requisiti quindi insomma questa è un po' come esperienza se ho detto delle cose sbagliate mi corregga la prego e poi l'altro insomma invece sono molto curioso dal punto di vista commerciale però proprio inteso legato ad una company legato ad un marchio cioè io ancora mi stupisco come mai non ci sia stato un boom da questo punto di vista il tuo ragionamento non fa una grinza sul piano del programma media e del pedigree che il programma media richiede sono contentissimo che anche tu arrivi alle stesse considerazioni alle quali siamo arrivati noi sul piano invece dei docu-commercial devo chiedere scusa a tutti per non averlo affrontato adeguatamente anzi per non averlo affrontato proprio perché la mia preoccupazione era soprattutto un'altra adesso una cosina ve la faccio vedere però lei che sa già ride vi devo tenere un po' allegri no aspetta aspetta che lo stop perché se no ci distraiamo prego docu-commercial ok però parliamo di budget molto molto importanti cioè quello che voglio capire è se esiste anche una definizione va bene mi fai la domanda seria io ti stavo rispondendo quella cosa faccetta la domanda seria a questa risposta qui io ho l'impressione che la crisi abbia fatto tanto bene a tante cose una di queste cose è che il consumatore poi per carità fareste affermazioni magari c'è da vergognarsi due anni dopo ma il consumatore sembra voler sapere meglio come le cose sono fatte piuttosto che correre semplicemente dietro al brand image advertising age che è la rivista e il sito della professione pubblicitaria negli Stati Uniti almeno mette in evidenza una maggiore incisività della comunicazione pubblicitaria con forte contenuto informativo rispetto alla comunicazione pubblicitaria di sola immagine in questo è evidente il potenziale che ha chi sa utilizzare i contenuti interattivi adesso non vi faccio più vedere questo ma segnatevi di andare a guardare ZA ZA HIA lo volete vedere un po' questa qui ha fatto scandalo perché quando era minorenne aveva contratti di vario generi con un paio di giocatori della della squadra di calcio nazionale francese che noi battevamo perché quelli arrivavano lì erano stanchi e si è fatta questo portfoglio meraviglioso meraviglioso sì 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 a quell'epoca la ragazza aveva 17 anni e mezzo adesso ne avrà 22 23 e sinceramente lo consiglio a tutti perché è un inno alla vita però non mi ricordo qual era quello bellissimo guardate lo suoni come un pianoforte è uno dei più bei siti interattivi dell'universo ovviamente ad ogni cliccata qualche cosa si mostra è sempre condotto comunque sul sul livello del gusto dell'ottima hard direction io sospetto che il produttore che si chiama Anonymous voi l'abbiate conosciuto qui l'altro ieri ma è possibile ok boh invece dal punto di vista basso budget chi lo sa bisognerebbe cominciare a provare qualcosino ha fatto no l'ex con la solitelli qualcosino ha fatto però siamo ancora lontani dalle vere potenzialità insomma di questo strumento applicato al commercio al puro voi come noi siete in una regione con eccellenti vini io non ho mai avuto il tempo da dedicare per andare a caccia di eccellenti clienti di eccellenti vini per fare degli eccellenti documentari di vino con una capacità di vendita diretta secondo me chi ha dei contatti farebbe bene a utilizzarli in quel campo la ovviamente bisogna focalizzarsi sui clienti sulle aziende che offrono un prodotto che di per sé diciamo richiede anche una certa conoscenza o una quantità di informazioni che in un certo senso è parte integrante del tipo di prodotto che quella tienda vende quindi col vino uno non vende soltanto un liquido rosso che entra in bocca ma anche uno stagio di stato un simbol legato a ma al di là del simbol insisterei piuttosto su modalità specifiche di cultura di vinificazione qualità organolettiche di eccellenza ricchezza di informazione sugli abbinamenti gastronomici e infine logistica della consegna perché il web ha questo potenziale straordinario che ti lancia un messaggio a tutto il mondo il guaio è che non tutto il mondo se ne accorge allora la capacità di risolvere questo che è il problema intrinseco della comunicazione via web ho l'impressione che molta produzione alimentare italiana specialmente nel vostro campo poi non lo so penso alla pasta al grano alla sfiducia che c'è crescente su tutti i mercati occidentali nei confronti dei prodotti a base di farina perché a forza di usare farine di incerta provenienza e di cattiva conservazione è aumentato enormemente il numero delle patologie celiache e questo lo sanno tutti a partire dall'America dove questo fenomeno è stato registrato per primo sin qui da noi dove quella malattia lì non si conosceva sino a dieci anni fa dunque è molto vicino al discorso della nuova agricoltura però può avere dei caratteri come dicevi tu di prodotto che sta quasi nel lusso ecco sono tutte sperimentazioni che io non le ho fatte voi mi sembra nemmeno ma forse sono mature da fare se poi si pensa a un certo tipo di eccellenza scusatemi cercavo di non dire questa parola perché la dicono tutti ma poi produzione di cucine di strumenti per la casa l'industria italiana è straordinaria in un certo tipo di produzione e quelle sono cose che richiedono una informazione molto minuziosa per l'acquirente e lo strumento interattivo è particolarmente adatto a fornire questa informazione minuziosa insomma è un campo da esplorare ed è effettivamente un secondo binario ideale per la produzione indipendente io non vorrei ripetermi rispetto ai miei compagni di corso perché abbiamo comunque siamo tutti orientati verso il Cina ma non più verso il do commercial come altera o altera che dir si voglia sono tanti aspetti che andrebbero approfonditi perché in una giornata non ci si riesce ad approfondirli legali ed etici soprattutto quelli che abbiamo trattato oggi nulla sono contento di aver fatto questa esperienza grazie ad altera o altera che dir si voglia altera altera ok voi vi concedete altera allora magari adultera e nulla sono contento che ci sarà questa cosa il 13 il FERT Transmedia Bridge 13 dicembre a Torino probabilmente verrò bene per approfondire bene tante cose perché poi sono dei momenti di incontro tra gente che sta cercando di fare questo lavoro che fa questo lavoro professionisti al settore ci si può confrontare si possono anche nascere delle possibili future collaborazioni io volevo fare una considerazione sto pensando un po' di giorni che penso che il web documentario come lo si può intendere si può intendere in tante maniere perché è una nuova frontiera una nuova strada penso che abbia una forte prospettiva una prospera prospettiva per quanto riguarda il web documentario didattico secondo me potrebbe essere usato e non è per niente esplorato ancora ma potrebbe avere delle grandissime grandissimo larghissimo uso immagino questo magari mi sbaglio visto che oggi abbiamo trattato gli aspetti legali ed etici che poi approfondiremo e approfondirò personalmente volevo chiedere a fare due domande la prima come può permettere un colosso come McDonald's l'uso di quella grande M che abbiamo visto prima in quella maniera e un'altra domanda perché un videogame perché a mio parere un videogame si può definire un web documentario grazie comincio dalla seconda quello lì è un tipo molto particolare perché utilizza l'arma della satira però è un tipo molto particolare di serious game il serious game è un genere che include contenuti con una più o meno forte capacità didattica l'utilizzo da te segnalato e da me totalmente raccolto del web documentario in area didattica include certamente l'utilizzo di lo specifico diciamo sottogenere dei serious games poi magari Elena ve ne fa vedere uno per bambini piccolini piccolini per evitare che si facciano male perché ce ne sono per tutte le età una cosa che volevo notare e che mi sono dimenticato di dirla quando parlavamo di LIM eccetera si è parlato di LIM più negli intervalli che nella lezione comunque sia lo sapete tutti la LIM è costata un sacco di soldi e devuota di contenuti la ministra che fu della pubblica istruzione ha fatto una circolare ha detto agli editori dovete mettere i contenuti digitali oltre che darci i libri gli editori li hanno fatti non con la mano sinistra ma con il piede sinistro hanno messo cose di valore zero piene di errori che però sono passate perché sono passate le LIM sono le lavagne interattive multimediali in dotazione alle scuole si scusate morale adesso siamo i più indietro siamo i più avanti nell'aver venduto a caro prezzo tante lavagne interattive alle scuole siamo i più indietro nei contenuti per la lavagna interattiva e i professori che già sono poco motivati a fare qualcosa di diverso dal solito perché perché la loro condizione sindacale non è precisamente ideale figuratevi con quale energia abbiano voglia di lanciarsi nel mondo dell'utilizzo della lavagna interattiva sapendo oltretutto che i contenuti sono meno che mediocre questo anche quando gli editori sono importanti dall'altra parte per due decenni almeno tutte le facoltà di informatica di scienza della formazione e i politecnici si sono dati da fare sui sistemi di distance learning il web documentario è nativo un sistema distance learning perfetto nel momento in cui fornisce allo studente la capacità di applaudare i suoi test poi dipende dalla sensibilità dall'intelligenza degli autori e dell'editore saper trasformare tutto questo in qualche cosa di sufficientemente divertente per invogliare le persone a farlo e di sufficientemente serio per generare un insegnamento adeguato io ci credo tantissimo il punto qui però è molto 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 politico perché in Italia tutte le questioni sul libro di testo nascono da una cupola che decide chi sono gli editori chi sono i libri quando si cambiano eccetera e l'accesso a quel mondo lì è precluso ai più per la formazione pubblica ma c'è anche quella privata c'è anche quella privata c'è anche la formazione professionale c'è tantissimo in questo campo sarebbe bello uscire delle belle esperimentazioni di McDonald's ah l'uso dell'em di McDonald's semplicemente McDonald's li lascia fare perché McDonald's non può impedire la satira nei propri confronti perché se si arrabbia tanto con qualcuno ce ne sono altri diecimila che che cominciano a satireggiare su di loro non è successo niente ha lasciato la satira del resto va anche detto che varie decisioni di giustizia presso corti americane hanno via via sempre più legittimato non solo la satira ma anche la parodia anche perché un po' tutta la storia dei media americani è cosparsa di parodie ricordate quante ne fece Topolino ecco dunque in qualche maniera in America c'è una cultura anche giuridica di maggiore tolleranza nei confronti della parodia incluso verso Marchi non sarebbe mai tollerato da McDonald's l'uscita di un venditore di hamburger con una M somigliante alla sua io non vorrei evitare diciamo di ripetere concetti già espressi precedentemente però voglio un po' rilacciarmi alla domanda di Andrea per quanto riguarda i serious games diciamo personalmente sono un po' scettico sulla potenzialità di sensibilizzare su certe tematiche cioè attraverso quel format e in tal senso volevo chiedere se secondo lei questa potenzialità c'è di sensibilizzare quindi di far riflette su certi aspetti oppure rischiano anche un po' di appiattire tutto diciamo sì questo è un problema che è stato sollevato da molti e che condivido debbo dire una cosa a me il primo che ha fatto questa osservazione è stato Massimo Arvat che ancora Clint non l'aveva visto e già diceva e Massimo Arvat è un eccellente produttore già diceva tutte le cose che escono con Clint si somigliano si somigliano se i montatori continuano ad agire seguendo l'archetipo iniziale perché poi come abbiamo verificato possono anche non somigliarsi per niente tuttavia quando dicevo stamattina per me il contenuto interattivo chiuso in se stesso che non prevede partecipazione che non prevede uscita entrate è onanistico è inutile lo ripeto allora alle volte io vedo dei contenuti interattivi molto belli molto belli nel senso molto ricchi e molto invoglianti alla consultazione che non hanno affatto la forma di un prodotto montato con un sistema di montaggio hanno per esempio basati su uno scroll continuo dall'alto verso il basso però se il tema è forte se le immagini sono buone se i testi sono sintetici quanto basta e soprattutto se il problema è vero ed è affrontato con il criterio giusto funziona benissimo e te lo leggi dall'inizio alla fine il punto è verificare io credo non tanto la funzionalità e la longevità prevedibile di una singola tipologia di contenuto quanto capire e deliberare in merito vale o non vale la pena di investire su dei contenuti che non hanno una vita televisiva che non hanno una vita cartacea che hanno una vita esclusivamente web o mobile a questa domanda con tutte le prudenze del caso io tendo a rispondere sì e poi ci aggiungo vicino sperimentiamo le cose più adatte produciamole con la stessa con lo stesso rigore con cui 50 anni fa si producevano i buoni libri cerchiamo di promozionarle con intelligenza verso il loro target o magari meglio ancora più che promozionarle farle muovere attraverso il tam tam della comunità che è interessata ad esserne utente e speriamo che tutto vada bene ecco la metterei in questi termini tuttavia senza voler essere a tutti i costi iperottimisti dunque per me la parte diciamo che mi ha che ha catturato di più la mia attenzione oggi è stata quella relativa all'aspetto antropologico del come catturare come costruire le community nell'Italia contemporanea perché quando dicevi del fatto che avete fatto quei progetti con le aziende che le aziende hanno risposto positivamente perché erano aziende giovani e di conseguenza molti dei difetti se vogliamo dire storico-culturali dell'Italia degli ultimi 50 anni in un certo senso sono più smussati perché la nostra generazione è più attenta alla condivisione dell'expertise e compaglia bella perché sappiamo anche che dobbiamo tirarci su un po' da soli e se non ci aiutiamo tra di noi della nostra generazione sicuramente l'aiuto viene da pochi elementi come te per esempio della generazione precedente insomma mentre gli altri piuttosto cercano di metterci quindi diciamo che questa cosa mi fa anche ben sperare perché una delle penso delle idee che abbiamo condiviso con tutti quanti sia con i docenti che con i partecipanti al laboratorio nei giorni scorsi è che il transmediale è un'ottima opportunità ma è anche per l'appunto ancora un'opportunità cioè un mercato che non è detto che esista non è detto che esisterà mai se non vengono delle buone idee che faranno esistere questo mercato e che faranno incontrare il pubblico però pensare quindi che c'è già un esempio come questo vostro che mi sembra di successo e che in un certo senso questo esempio si basa su le persone che poi sono se vogliamo le forze produttive del paese dei prossimi 40 anni insomma mi fa ben sperare nel senso che mi fa pensare che forse la sensibilità giusta veramente c'è e quindi bisogna veramente trovare quella quella forma necessaria quella forma che sarà capace di incontrare il suo pubblico e quindi che insomma genererà un prodotto in grado di stare sul mercato e di generare una vita decente per quelli che quel prodotto ambiscono a farlo e a camparci su insomma ecco ti ringrazio molto di quello che dici perché in qualche maniera condensa anche le mie motivazioni personali io penso che sono ancora qui a occuparmi di questo sostanzialmente per una ragione perché mi piacerebbe si affermasse il paradosso che dopo quella che io scusatemi se esagerano i termini può darsi che sbaglio ma sono convinto di quel che dico dopo vent'anni di shock mediatico siano i media indipendenti a fare quella trans di ritorno alla realtà alla verità del vivere di cui credo che questo paese abbia bisogno e mi piacerebbe particolarmente che media indipendenti riferiti a comunità a vere comunità trovassero in Italia un terreno fertile in qualche maniera cambiassero il valore di quella parola comunità che per esempio detta in francese o in inglese vuol dire i pakistani gli algerini il comunitarismo in francese è la separazione delle comunità fra di loro mentre se noi ragioniamo oggi sulle comunità delle mamme risparmiatrici o sulla comunità dei nuovi agricoltori o sulla comunità delle famiglie che vogliono ricostruirsi stiamo facendo un'operazione molto più civile molto più degna e forse in qualche maniera voglio dire l'Italia può uscire da più di vent'anni di vergogna mediatica con dei media che riaffermino una cittadinanza nuova e degna e sarebbe bello come a solito dunque adesso chiederemo al docente che cosa voglia di fare ma il programma ha già risposto insomma il laboratorio si sposta sul programma sul noto programma pizza e birre alla Pietro Gagliano e poi questa sera vediamo pure come arrangiarci poi vi farò sapere questa sera vediamo ora grazie a tutti grazie a tutti